Io mi trovo quando guardo una persona che devo assistere a tolce a sicurare questa personalità in modo che cambi, oppure sicurare il pensiero in modo che cambi e così spesso la persona vivendo su se stesso guarisce e certe volte può succedere anche immediatamente e se succede anche in poche persone, vuol dire che è difficile fare le cose.